Cari amici e colleghi, ricordo con voi Luca con molto affetto, soprattutto per il contributo che ha dato alla mia crescita culturale in seguito alla crescita professionale e per la sua amicizia naturalmente. I modesti contributi che ho dato alla genetica mi sono principalmente dovuti all'azione di Luca e il mio percorso in Italia e all'estero è stato sempre fatto sotto la sua guida. Mi fa piacere poter ricordare Luca con voi e nel suo nome vi saluto caramente. Basta, è finito.